in quel tempo gesù disse ai suoi discepoli questa parabola il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo cinque di esse erano stolte e cinque sagge le stolte presero le loro lampade ma non presero con sé l'olio le sagge invece insieme alle loro lampade presero anche l'olio in piccoli vasi poiché lo sposo tardava si assopirono tutte e si addormentarono a mezzanotte si alzò un grido ecco lo sposo andategli incontro allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade le stolte dissero alle sagge dateci un po del vostro olio perché le nostre lampade si spengono le sagge risposero no perché non venga mancare a noi e a voi andate piuttosto dai venditori e compratevene ora mentre quelle andavano a comprare l'olio arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire signore signore aprici me gli rispose in verità io vi dico non vi conosco vegliate dunque perché non sapete nel giorno né l'ora una parabola come questa bisogna affrontarla con gli strumenti giusti altrimenti diventa un rebus irrisolvibile che su dieci vergini cinque entrino alla festa perché hanno la lampada accesa e le altre cinque dopo aver comprato l'olio vengano misconosciute e cacciate solo perché arrivano un po in ritardo da quello stesso sposo che addirittura è arrivata a mezzanotte beh mi pare un tantino esagerato in effetti se la guardiamo letteralmente il brano non funziona quindi occorrono gli strumenti giusti quelli che ci permettono di decodificare la parabola siamo alla festa conclusiva quella che inaugura il regno dei cieli sappiamo dalle scritture che ci sarà un grande sposalizio chi è lo sposo lo sposo Gesù chi sono le vergini le vergini e l'umanità direte come si fa a capire questo in effetti lo do un po per scontato ma mi avvalgo di qualche piccolo studio biblico e fidatevi funziona così il dieci è il numero simbolico dell'umanità e le vergini quindi siamo tutti noi ora ciascuno delle vergini ha una lampada ma cinque hanno l'olio le altre cinque no qui ci si dibatte ma parebbe che l'olio rappresenti la fede o meglio l'aver perseverato nella fede la lampada viene consegnata a tutta l'umanità alle dieci vergini quindi a tutti è data la possibilità di credere ma non tutti tengono accesa quella lampada ma l'olio potrebbe essere anche la carità la lampada la vita a tutti è consegnata la vita ma non tutti la spendono nella carità ora perché le cinque vergini senza olio non entrano alla festa perché le vergini sagge hanno vissuto la loro vita nella fede o nella carità identificandosi in qualche modo a gesù si dice appunto dei santi che sono alter christus un altro cristo quindi lo sposo che arriva riconosce in queste vergini qualcosa di sé si riconosce in loro come il buon pastore che conosce le sue pecore sa che gli appartengono mentre le altre quelle vergini che non hanno olio non vengono riconosciute non è quindi un giudizio di castigo gesù non le riconosce perché loro non hanno avuto mai a che fare con lui